Buongiorno ragazzi, siamo a Morzin in Francia, indosso i colori della maglia sociale dell'ASD Emissioni Zero. Siamo qua con Gravity School, abbiamo fatto uno stupendo weekend e adesso abbiamo Delpo davanti che ci fa vedere questa nuova pista fresca fresca che si chiama Stende Aig Patro. Aig Patro, va bene, seconda volta che la faccio, speriamo di chiudere i saltozzi. Qua ce ne è già uno in salita praticamente. E via, il Mondelpo ha purtroppo avuto un problema alla Lapierre, adesso in mano un'altra... un'altra bici, quindi... Yeah, boy! Sono molto belli, molto molto belli, questo è il pato colco. Ci vediamo anche per la Lapierre. Questo pure... Yeah, boy! Ah, qua c'è il droppino. Questa è da soli. Minca, stralungo, bruttana, yeah! Grande, Delpo! E sono già tre giorni che giriamo e le gambe fanno un po' Giacomo-Giacomo. Yes! Comunque, girare sulle piste nuove è veramente super. Super, super. No, si è spenta! Dietro abbiamo il Lucky che dovrebbe riuscire a riprenderci. I maieri che passano, i costeri, il peccatone in abbondanza. Questo è improbabile chiuderlo. Perché ci sediamo per riposare. Quatt'anni mi sono. Vai, Lucky! Minca! Uuuuh! Che troppo è giusto. Qua si riprende. Ci troviamo nel steppattone. Yeah! Che bellissimo! Veramente super! Un po' di trenini. Yes, sì! Meno male che ci fanno passare. E questi trail così di nuova concezione sono davvero stupenti. Veramente in discesa non si fa fatica. Ho sbagliato la curva. E queste curve una, due, tre le vorrei avere in giardino. Perché sono troppo figlie. quelle che senti quando entri a una bella velocità. Vai! Wow! Bigissima! Grazie Delpho! Veramente bella! Yeah! Unietto con la potenza il lucky abbiamo perso il lucky va bene e quindi eccolo che arriva eccolo 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 wow quindi da 06 06 è tutto il fiatone è vero il fiatone c'è e niente vi aspetto su Bicilive guardate la pagina Facebook e il sito della Gravity School e andate a mettere un like anche alla pagina della ASD Emissioni Zero Ride enjoy e respect Yeah man